Oggi ci troviamo davanti alla procura di Bologna, siamo venuti a depositare l'esposto che riguarda l'esondazione del fiume Reno. Ci viene raccontato che quanto è successa una calamità naturale, che ha piovuto troppo, in realtà non è così, non è un evento straordinario, quindi straordinario, c'è solo ritardo con cui sono stati iniziati i lavori e mai conclusi. Ci sono secondo noi delle responsabilità sicuramente politiche e una sottovalutazione del problema. Lì ricordo che c'era un cantiere in essere per lavori che dovevano essere urgenti e non sono mai stati completati, per un intervento che è la sistemazione di un'argine che è a tutela dell'incolumità pubblica. Quindi noi abbiamo chiesto a livello politico una commissione di inchiesta che non ci è stata concessa, non ci rimane altro che depositarlo in esposto alla magistratura affinché si indaghi sulla dinamica e si accerti in eventuali responsabilità. Grazie a tutti.